La scuola del fumetto, in cui c'era uno di questi individui, questo a mia destra, Antonio Pirrotta, adesso in qualità di grafimata, invece, vi presenteremo di una produzione di quest'anno, I Vespri Siciliani, un cortometraggio che se non sbaglio dura 20 minuti, una ventina di minuti, che spero possa interessarvi tutti. Abbiamo dei tempi veramente molto stretti, per cui do direttamente la parola agli ospiti e vi auguro un buon divertimento. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Ragusa, ho curato la regia di questo cortometraggio su Vespri Siciliani che andremo a vedere tra poco, insieme ad Antonio Pirrotta. Vogliamo sottolineare intanto che il cortometraggio è stato finanziato in parte dalla Film Commission e in parte ovviamente dalla forza lavoro della grafimata e cartulla. E poi una cosa importante, molto importante per noi è che è stato realizzato interamente in Sicilia. È stato realizzato a Palermo, dove noi abbiamo la sede, da disegnatori siciliani, tutti siciliani. Per noi è molto importante perché, oltre insomma a lavorare nel campo del cinema d'animazione e del fumetto, cerchiamo intanto di formare i nuovi giovani che possano rimanere a lavorare qui, che possano avere anche base qui per lavorare anche per l'estero. In questo cortometraggio, infatti, in questo cortometraggio hanno lavorato molti ragazzi che fanno la scuola del fumetto o che hanno ex allievi della scuola del fumetto, e alcuni sono presenti qua. E quindi, diciamo, tecnicamente poi passo la parola al mio collega per dire qualcosa di tecnico sul cartone animato. In realtà avremmo voluto fare una presentazione un po' più ampia spiegando un po' come è stato realizzato questo cartone animato. Cosa che per motivi di tempo il signor Lloyd ci ha levato mezz'oretta, questo con la maschera qua, ancora, basta, ma mi scherzavo, mi piace moltissimo Lloyd, dico però, insomma, per cui siamo costretti a fare proprio un zuntino. Avevo già movimentato tutti i disegnatori che hanno lavorato per farli mettere qui e farvi vedere un po' le varie fasi della lavorazione, però questo purtroppo non potrà essere fatto. C'è Livio in rappresentanza del gruppo lavoro, che è colui che ha curato le scenografie. E basta, io vi faccio un zunto su quello che è stata la produzione dei Vespi tecnicamente, dopodiché io direi di vedere il cartone animato. Casomai, se ci sono domande un po' più specifiche, abbiamo qua dei file che possono spiegare come è stato realizzato, quindi dopo il film, se volete, possiamo anche parlare in maniera più specifica della tecnica e farvi vedere proprio qualche lato, qualche passaggio della lavorazione. In sintesi, questo è un film che è l'animazione per la TV, quindi una qualità ottimizzata per, come dire, per non video. è stato fatto con una media di disegni relativamente bassa, circa 600 disegni per minuto, ha coinvolto una trentina di ragazzi in un anno di lavoro ed è stato fatto interamente in Italia. Ci tenevo a dirlo perché ormai tutti i film d'animazione vengono fatti praticamente in Cina, in India, in Corea, nei paesi dell'est. Questa credo sia stata l'unica produzione italiana lo scorso anno fatta interamente in Italia. È una cosa alla quale sembra patetica, però la dico proprio perché ci tengo che si sappia che in Italia, nonostante si produca il lavoro sporco, quello dell'animazione, il lavoro dei disegni, il lavoro del più sofferente, viene ormai demandato agli studi coreani o indiani o cinesi o chi parla. Tecnicamente è un film d'animazione tradizionale, anche se abbiamo utilizzato le nuove tecnologie per accelerare un po' le varie fasi di produzione. Tradizionale è la tecnica perché il risultato finale è di animazione 2D, disegnata, con la differenza che non abbiamo disegno su carta. È un film interamente disegnato in digitale, nel senso che abbiamo utilizzato le tavolette grafiche per fare le software che permettono di gestire il disegno attraverso la tavoletta grafica, quindi è interamente digitale. Questo un po' ci dispiace perché non abbiamo neanche un disegno da appendere, abbiamo solo dei file, ma solo dei numeri non li possiamo appendere, però ci ha semplificato la vita dal punto di vista della gestione del lavoro dell'animazione, però siamo un po' dispiaciuti del fatto che non abbiamo neanche un disegno originale da appendere. Non abbiamo spiegato tonnellate di carta, ma tonnellate di pendrive che servivano per passare i file. e abbiamo fatto tutto dall'inizio della funzione, quindi dalla fase dello storyboard, tutto disegnato al computer. Abbiamo anche utilizzato tecniche 3D come base dell'animazione e tecniche 3D come base per la scenografia. Le ambientazioni scenografiche sono state realizzate in Photoshop grazie a Livio e a un'equipe di disegnatori che ha gestito tutte le scenografie e sono partiti da dei modelli 3D che abbiamo costruito per quanto riguardava la città del periodo medievale di Palermo che si era ricostruito il modellino proprio virtuale della Palermo del 1200. Da lì abbiamo dato fuori che c'erano i punti di vista e le inquadrature che sono state poi passate ai disegnatori che le hanno in qualche modo prese fresche, meno rigide del 3D e per fortuna ci sono anche riuscite. Anche le animazioni sono state fatte partendo dal 3D nel senso che abbiamo modellato i personaggi in 3D e abbiamo utilizzato la base 3D solo come rough d'animazione. I vecchi rough che venivano fatti prima schizzati velocemente noi li abbiamo fatti in 3D questo perché non avevamo a disposizione tantissimi animatori ma avevamo a disposizione tantissimi assistenti per cui abbiamo compensato il lavoro che mancava dagli animatori con la velocità del 3D che poi è stato nuovamente ripassato al disegno e quindi dal rough 3D è diventato un rough 2D quindi ridisegnato, ripulito, rintercalato e quindi poi l'effetto finale ha perso completamente se non forse in qualche scena ha perso completamente il gusto del 3D tant'è che pure posso passo due per chi è tecnico per chi conosce un po' l'animazione sa di cosa sto parlando e quindi è un film che ha visto proprio tutti i passaggi interamente digitali come dire ci ha coinvolto come dicevo prima circa un anno di lavoro e basta io oltre questo non vorrei dire niente lo vediamo dopodiché se volete anche capire come è stato realizzato tecnicamente abbiamo qui delle scene da farvi vedere e quindi lo possiamo anche fare dal punto di vista anche della recitazione della musica e il montaggio è interamente prodotto in Sicilia quindi sia le musiche sono originali composte da Ivan Monterosso così come anche il montaggio e l'ending fatto da noi Buona visita se c'è qualche domanda così rispondiamo velocemente a tutto sì intanto complimenti per il bel progetto grazie si vuole sapere se avete in cantiere se si può dire qualche altra cosa magari che abbia la stessa forma di finanziamento visto che è una cosa di successo anche a questa regione e intanto questo e poi se secondo voi esiste in Italia e in particolare in Sicilia la possibilità di un modello di business per l'animazione anche se questo significa prendere in subappalto l'animazione prodotta da qualche altro studio magari in Europa o se invece la concorrenza asiatica non lascia scampo a questa possibilità grazie sono diverse domande le devo di rispondere una volta secondo me a base del termine lo fermano secondo me la possibilità del business c'è noi siamo lì da vent'anni abbiamo cominciato negli anni 80 quando in Italia non si produceva niente c'è la possibilità di fare industria nell'animazione però non prendendo il punto di vista della produzione delle proprie nel senso che noi siamo stati studio di service per 15 anni qui a Palermo abbiamo lavorato anche bene il del gatto aiutare gli alberi a tutte le produzioni italiane che si sono state fatte in Italia fino alla fine degli anni 90 oggi diciamo che questa possibilità viene a mancare perché la concorrenza la concorrenza asiatica è molto complessa è molto difficile anche perché il rapporto è 1 a 10 cioè loro con un minuto di animazione lo fanno con 1.500 dollari però non solo animazione tutto dallo storyboard al lavoro finito in Italia costa molto di più quindi diciamo come service è difficile oggi in Italia porsi come azienda che dà questo servizio come produzione c'è la possibilità invece di creare proprie storie e allora di entrare in un mercato con proprie produzioni noi questo è quello che stiamo cercando di fare è chiaro che per far questo però ci vuole ci vuole tanto perseveranza questa qui non ci manca siamo lì non ci spostano non ci spostano intanto ci vedono nei festival in Italia ci dicono ma voi ancora qua siete e vabbè pazienza ci conosco dagli anni 80 e poi ci rivede la canale diciamo ma voi ancora qui siete pazienza e quindi insistiamo però ci piacerebbe che naturalmente noi abbiamo la scuola e questo ci sono nuovi disegnatori nuove idee diciamo la possibilità di creare nuove situazioni dipende molto anche dalle nuove leve dai nuovi disegnatori dal fatto che ci siano altre realtà che possano creare ulteriori movimenti come diceva stamattina il mio collega e il mio collega più siamo più c'è la possibilità che si crea in rete che si creano produzioni che possono essere anche vendute in un mercato molto complesso come quello dell'animazione per cui noi ci crediamo come progetti abbiamo altri progetti in cantiere abbiamo il progetto con un lungometraggio che è stato a Piano Media lo scorso anno che per ora è in una fase di pausa perché comunque riuscire a chiudere 8 milioni di budget non è facile per noi che veniamo da però ci crediamo noi portiamo avanti le cose ci vuole tempo dammi dicevo l'atto dammi tempo che vi non ci tentiamo sempre volevo aggiungere un'altra cosa che la RAI produce e produce tanto nel campo dell'animazione il problema è riuscire ad entrare in quel circuito per nemmenci chiaro ci vuole il santo protettore per riuscire ad avere i finanziamenti della RAI qui lo dico qui lo dico ma è così perché noi in RAI siamo andati tante volte a presentare progetti non so perché non vanno mai bene però poi in televisione sia in RAI che in media si vedono delle cose che sono queste a mio parere sono scene quindi dipende anche lì non solo puoi mettere anche tutta la passione che vuoi però se non c'è il famoso santo protettore alle spalle a volte non si riesce a fare grande non voglio scoraggiare nessuno perché penso che sia così in tutti i campi diciamo che concludo con il fatto che se volete vedere altro che abbiamo fatto a Natale uscirà il film di Pinocchio a cui abbiamo lavorato una parte un piccolo frammento anche nostro ma non è un nostro film poi prossimamente siamo al lavoro su altre cose per cui ancora non ne possiamo parlare in maniera completa però sono progetti e cose varie che stiamo cercando di realizzare ci sono altre domande che poi lasciamo lo spazio a Tito Faraci e all'altra conferenza con il padre grazie per averci portato qui a Tito Faraci questo splendido cortometraggio e ancora una volta vi invitiamo a perseverare e vediamo i nostri migliori avanti qua siamo grazie grazie